Mi ha colpito molto la conferenza stampa di Daniele, che è stato veramente molto bravo, ha detto le cose giuste, con rispetto, perché comunque non ha mai mancato di rispetto e credo sia fondamentale non scadere mai in toni che possono essere eccessivi, stiamo sempre parlando di calcio, però credo sia stata una grande ingiustizia. Scopriamo con questo fatto che cos'è un altro lato del calcio, cioè il fatto che comunque sia soltanto interessi, denaro, vengono portate sulle persone che in quel momento offrono denaro e nel momento in cui le carriere vanno avanti e determinati calciatori diventano un pochino più grandi si perde questo interesse, quindi non badando alla passione, alla fedeltà, in questo caso di Daniele e questo è un po' amaro, un po' amaro. Io ho giocato a pallone tanti anni, seguo il calcio, per tanti anni c'è avuto l'abbonamento allo stadio, adesso magari un po' meno perché è più difficile andarci e un po' di amarezza non lo scopro oggi con Daniele, un po' questi meccanismi riconosco e nel tempo sono diventati sempre più chiari. Mi dispiace tanto perché è un grande calciatore che ha fatto tanto nella Roma, anche se non ha vinto tantissimo e soprattutto è un bravissimo ragazzo, una bella persona. Grazie a tutti.